Un muro su cui scrivere, un cortile su cui lasciare un pallone, cioè praticamente una occasione per mettere in evidenza la propria idea, per comunicare con gli altri, per mettersi in relazione con altri giovani che abbiano problemi riguardo all'educazione o al rapporto con i propri genitori o al rapporto con i propri educatori. Lo spazio è uno spazio assolutamente libero nel quale tutti quanti, anche i più giovani, ma anche i meno giovani, ma anche i genitori e gli educatori possono intervenire. Tutto il materiale che verrà spedito al blog verrà poi utilizzato dal professor Prandini per poter avere uno specchio sulla situazione giovanile, uno specchio dei giovani dei quali spesso si parla senza mai consultarli.